Il bollettino regionale di oggi indica zero nella casella relativa ai nuovi contagi da Covid-19 nella provincia di Barletta, Andrea Trani. Un dato che però si scontra con la grande problematica relativa in particolare alle RSA del territorio dove sono scoppiati alcuni focolai. E' il caso della RSSA San Giuseppe di Canosa dove si sta completando il trasferimento di tutti i 33 pazienti rimasti in struttura, sia positivi che negativi. 29 di loro sono positivi mentre 4 risultano negativi. Proprio in queste ore però si registra un nuovo decesso. Si tratta di una ottantenne barlettana che è la settima vittima all'interno della struttura canosina positiva al Covid-19. Tutti i pazienti sono stati trasferiti all'interno degli ospedali di Canosa e Biceglie per ricevere tutte le cure di cui necessitano. La decisione dell'ASLE è arrivata anche a seguito della difficile situazione del personale all'interno della struttura pochi infermieri ed os per assicurare giusta assistenza nonostante un intervento diretto dell'azienda sanitaria locale. Una situazione è rimarcata più volte dal primo cittadino Roberto Morra che ha condiviso la scelta di spostare tutti i pazienti. Altro decesso è quello dell'anziano residente presso la Domus Lauretana di Trinitapoli che tre giorni fa era risultato positivo al tampone. La positività dell'uomo, affetto già da altre patologie, ha fatto scattare un piano d'azione che ha previsto tamponi per tutto il personale sanitario con esito negativo mentre si attendono i risultati dei test effettuati su tutti gli altri ospiti della struttura. A Biceglie invece il sindaco Angarano ha annunciato una nuova positività nella giornata di ieri. I positivi della città di Biceglie salgono a 62, dei quali 5 ricoverati in ospedale e 21 in quarantena domiciliare oltre poi ai 36 pazienti dell'Opera Donuva ospitati nel plesso dedicato al Covid-19 all'interno della struttura. Buone notizie da Trani, dove è stata già dimessa la 19enne tranese positiva l'altro ieri al virus. Per lei un doppio tampone negativo e la possibilità di rientrare immediatamente nella propria abitazione. Proprio a Trani restano 19 i casi accertati fino a questo momento. Anche a Barletta ed Andria non si registrano nuove positività così come nelle città più piccole come San Ferdinando, Margherita e Spinazzola. Resta alta la guardia Minervino invece dove è di due giorni fa l'ultimo caso di positività all'interno della casa di riposo di Villa Billanzuoli dove sono oltre 45 i contagi registrati sino a questo momento. Anche qui a lavoro una task force dell'ASL BT per limitare al massimo sia il numero dei contagi e sia i disagi all'interno della struttura da cui alcuni ospiti sono stati già trasferiti. Ed è proprio sulle case di riposo che si sta concentrando anche l'attenzione della procura di Trani. I magistrati hanno infatti avviato un'indagine conoscitiva sui focolai all'interno di queste strutture per comprendere se tutte le procedure di sicurezza siano state adottate nel modo corretto.